In campagna elettorale hanno promesso investimenti nei servizi con particolare attenzione all'edilizia scolastica, ma come al solito non è cambiato nulla. Lo dichiara Marco Possanzini di Sinistra Italiana, Decimo Municipio. È il caso dell'istituto comprensivo Tuglia Zevi di Casal Palocco, una struttura in pessime condizioni in termini di guaine isolanti e coperture. Da tempo genitori e insegnanti chiedono interventi per sanare almeno le copiose infiltrazioni d'acqua quando piove. Inoltre, aggiunge, pretendiamo che venga fatta chiarezza sullo stato di abbandono in cui versa il plesso di via della Maggiorana a Casaletto di Giano. Questa situazione di totale immobilismo decisionale non è più tollerabile. Protocolleremo un documento in municipio per chiedere l'immediata convocazione della commissione competente e affronteremo le enormi criticità in cui versa l'istituto Tuglia Zevi. Vorremmo anche che fosse effettuato un sopralluogo alla presenza di genitori e professori, conclude Possanzini.